La condizionata per soggetti di 5 e 6 anni insalchi i gentlemen proprietari, prova che fa parte del trofeo Fondazione Santo Bono Posillipon. Non corre il 7 Chiara degli Ulivi, restano in 6 dallo steccato Clara Bellapel, Bonera Jet, Beautiful Day, Barone Gas, Brina Caffa e Clitumno SL. Problemi in fase di allineamento per Barone Gas e così Beautiful Day assume immediatamente l'iniziativa nei confronti di Clara Bellapel che precede Bonera Jet e Clitumno SL. Ha sbagliato anche Brina Caffa, quindi le due principali alternative alla favorita hanno sbagliato, però non sono squalificati per cui sul netto rallentamento di Beautiful Day cercano di recuperare il gap iniziale sia Barone Gas che Brina Caffa. Primo quarto addirittura in 32 e 7 praticamente sta sgambando, sarebbe andata più veloce in sgambatura Beautiful Day e così Barone Gas una volta rientrato in gruppo muove a largo. 600 in 48 e 6 si viaggia a media di 1,21 al chilometro, Beautiful Day, Clara Bellapel, Bonera Jet, affiancata da Barone Gas, chiudono Clitumno SL e Brina Caffa. 1,4 scarsi a metà gara, adesso allunga Beautiful Day trascinandosi Clara Bellapel e Barone Gas che ha trovato posto alla corda. chilometro in 1,18 e mezzo, 14 e mezzo di ultima frazione, Clara Bellapel in anticipo su Barone Gas che diventa un diretto avversario. Bonera Jet si è fermata a palo lontano e a questo punto con una frazione in 14 chiude la partita Beautiful Day. si è voltato Nofrio Tortorici e non ha trovato nessuno, curva volata ancora in 14. La lotta per le piazze vede intervenire a largo di tutti Brina Caffa che va su Barone Gas e in prossimità del palo probabilmente mette il Musino davanti all'avversario, per cui l'arrivo probabile ed ufficioso potrebbe essere 3,5,4. 2,1 scarsi media di 1,15 e 6 per la vincitrice annunciata Beautiful Day. Onofrio Tortorici alle redini lunghe, team gocciadoro che apre il convegno nel miglior modo possibile e chiaramente Onofrio Tortorici anche alla proprietà. recuperano molto bene dalla rottura iniziale sia Brina Caffa che Barone Gas, favoriti anche dal ritmo più che soporifero da passeggiata per via Caracciolo della Lider e riescono a raccogliere comunque le restanti piazze a disposizione.